Sapete quella che c'è quel bambino che risponde al telefono? Dispronto. Pronto mi chiami la mamma? Non c'è. Dove sta? Sta in terrazza. Ah, e chiamami il papà? Non c'è. E dove sta? Sta in gantina. E chiamami il tuo fratello? Non c'è. Ma dove sta? Sta nel solaio. E tua sorella? Non c'è. Ma dove sta? Sta nel cortile. Ma che stanno facendo? Me stanno a cercare.